Ciao a tutti, mi chiamo Raffaella Masciadri e sono la capitana della nazionale di pallacanestro. Partecipo anche io, insieme alla mia federazione, a Scuola Aperte allo Sport. Credo che sia molto divertente e molto stimolante poter provare tanti sport a scuola e soprattutto sia una crescita personale perché aiuta a mettersi in gioco e a sfidare e a confrontarsi con i propri compagni di scuola, non solo sui banchi di scuola ma anche in palestra. Inoltre c'è il rispetto delle regole che nello sport ma soprattutto nella vita è molto importante. Quindi mettiti in gioco, scuola aperta allo sport, entra in palestra con i campioni.